ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo benvenuti e bentornati sul mio canale oggi andremo a fare il video che ha come titolo un attimo che l'ho scritto per essere sicura di non dimenticarlo allora un evento che non ti aspetti andremo a vedere quale sarà in questo prossimo futuro un evento che magari voi non vi aspettate abbiamo tre varianti variante 1 2 e 3 scegliete la variante che più vi attira che più vi piace è io vi consiglio di seguire anche di ascoltare anche l'altra variante io volevo accendere le candele ma vediamo se riesco a trovare non trovo l'accendino e perciò va bene niente candele ok cosa stavo dicendo volevo ricordare a tutti che è un interattivo perciò prendete semplicemente ciò che risuona con la vostra situazione e lasciare andare il resto perché quello che non va bene per voi andrà bene per qualcun altro iniziamo subito con la variante numero 1 andiamo a vedere che energia abbiamo per questa variante vediamo un po con che cosa iniziamo un evento che non ti aspetti vediamo che cosa ci dicono le nostre carte per gli amici della variante numero uno allora serendipità allora questa è una carta molto positiva una carta abbastanza positiva direi è una carta che ci fa presagire appunto che ci sono delle opportunità che c'è molta consapevolezza abbiamo successo e fortuna e dobbiamo stare attenti ai segni e simboli e alla concomitanza di eventi cioè alle coincidenze allora è una carta di fortuna di un momento fortunato di un momento fortuito di un momento che tutto può andare per il verso giusto un evento che non vi aspettate sicuramente per quanto riguarda questa carta iniziale dovrebbe essere un evento fortunato un evento positivo andiamo a vedere l'arcano maggiore che esce per la variante 1 vediamo un po cosa ci va a dire e abbiamo la trasformazione abbiamo la trasformazione appunto la carta della trasformazione ci fa intendere che questo evento che sta per arrivare nella vostra vita è un evento fortunato è un evento che andrà a trasformare o la situazione attuale che state vivendo oppure vi andrà a trasformare proprio a livello interno a livello intimo può essere che voi troverete la soluzione a un qualcosa che vi sta in questo momento non convincendo oppure a una situazione che magari in questo momento non riuscite a trovare una soluzione vi sembra impossibile trovare una soluzione quello che la le carte ci vogliono dire che avrete un evento fortuito che vi aiuterà a trasformare quello che c'è in questo momento in atto nella vostra vita oppure ci saranno delle concomitanze ci saranno delle delle situazioni che si andranno ad agganciare una con l'altra che vi porteranno a un cambiamento della situazione che state vivendo in questo momento vediamo che il tipo di persona è legata a questa variante vediamo un po vediamo cosa ci dicono le carte allora qui abbiamo una una situazione che per molti di voi sarà legata ai sentimenti qui abbiamo innanzitutto delle persone a cui piace apparire delle persone a a cui piace essere in vista a piace essere notati però c'è anche da dire che potrebbe essere che queste persone incontri si incontrino e trovino finalmente un qualcosa che li accomuna uno con l'altro che li fa stare non solo bene a livello fisico a livello visivo a livello di estetica ma li che li fa stare bene anche a livello spirituale perché qua vedete una coppia che spiritualmente sta sta bene si trova in sintonia e qua vediamo appunto la concomitanza con due aspetti completamente diversi che si unificano e trovano un comune accordo potrebbe essere legato sia a persone fisiche sia a situazioni sia ad eventi cosa andiamo a prendere andiamo a prendere qualche sibilla vediamo andiamo a prendere una sibilla per voi una sibilla per la situazione una sibilla come consiglio vediamo cosa ci vanno a dire le nostre carte allora una per voi una per la situazione è una come consiglio allora in questo momento voi vedete tutto nero il discorso è questo in questo momento siete delle persone che vedete tutto nero vedete nemici da tutte le parti la situazione come la situazione non è tanta brutta per come voi la dipingete è una situazione che potrebbe anche portarvi allegria potrebbe anche potrebbe anche essere vista da un altro occhio potrebbe anche essere vista come una situazione che non porta tanta negatività infatti come consiglio qua mi porta la baldoria cioè le carte vi consigliano che al di là di quello che i vostri occhi vedono che di quello che le vostre sensazioni sono perché voi avete sensazioni negative in questa situazione a quello che il vostro spirito vi sta dicendo a quello che voi state sentendo in questo momento le carte vi dicono di non vedere tutto nero ma di cercare di vedere un punto di di forza in questa situazione che appunto sta andando a trasformarsi perché è una situazione che sta per trasformarsi in qualcosa di molto più positivo ma solo che voi dato che siete in una fase un pochettino negativa non riuscite a vedere invece ci sono delle buone prospettive appunto per trovare un qualcosa che vi che vi faccia vedere la positività della situazione o la positività del cambiamento perché potrebbe essere anche che il cambiamento sia positivo per voi ma che voi non lo vediate perché qua mi è nella carta del nemico perciò questo mi fa pensare che voi possiate anche vedere sì un cambiamento ma non prenderlo effettivamente per un cambiamento positivo come invece è allora andiamo a vedere cosa ci dicono le allora qui abbiamo una concomitanza di di parlare di parlare di parlare qui c'è una situazione di troppe parole ci sono troppe persone che si mettono a parlottare troppe persone che si mettono a chiacchierare qui mi porta che voi frequentate delle persone frequentate al di là di questo che stiamo parlando di uomo ma qua mi porta che voi frequentate delle situazioni frequentate degli ambienti dove si parla troppo si parla troppo appunto di questo personaggio di questo personaggio che a voi sicuramente preme questo personaggio ecco perché lo vedete adesso come un nemico è un qualcuno che voi vedete come un nemico ma invece che non è cioè il parlottare che c'è attorno a lui che ve lo fa sembrare come un nemico ma io non vedo assolutissimamente che questa persona sia nociva per voi sia nociva per il vostro per il vostro essere adesso andiamo a prendere i miei oracoli vediamo cosa ci specificano i miei oracoli in questa situazione per la variante 1 perché poi abbiamo una situazione che sta che tende a trasformarsi ma voi questo trasforma questa trasformazione non la riuscite a vedere scegliamo un solo mazzetto in modo da essere più libere di poter mescolare vediamo un po cosa ci dicono le carte allora fiducia avete visto voi dovete avere fiducia in questo cambiamento chiarimento voi dovete essere più come dire dovete essere più fiduciose di questo cambiamento che sta che sta per arrivare allora voi dovete fuggire da questo inganno che state perpetrando per forza in questa attesa allora è come se voi questo cambiamento lo volevate prima lo volevate prima questo cambiamento lo volevate subito invece che cosa succede avete preso questa non manifestazione di questo cambiamento cioè non non aver avuto questo cambiamento prima voi l'avete presa come una sorta di inganno vedete bene le carte si vedete voi siete volute scappare da questo inganno dicendo che appunto siete state ingannate voi vi siete tolto dice dagli impicci dicendo che è stato tutto un inganno e non non dando la possibilità a qualcuno di chiarirsi invece voi dovete dare fiducia a questo cambiamento forse voi vi aspettavate un cambiamento prima vi aspettavate un cambiamento diverso però qui le carte mi stanno specificando che voi dovete avere fiducia in questo cambiamento perché al di là delle attese ci sarà un chiarimento e non cercate con il vostro intuito di trovare sempre il pelo nell'uovo perché voi riuscirete a scappare da questo da questo inganno allora qua che cosa succede succede che voi vi siete allontanate dal punto focale della situazione vi siete allontanate da questa persona perché ci sono state delle indecisioni e questa forma di collaborazione io la vedo inerente a questo cioè a tutto questo parlottare che c'è stato intorno a questa persona questo c'è stato semplicemente per una questione di invidia una questione di invidia che si è diciamo è nata intorno a voi a questa persona si è creata una sorta di collaborazione invidiosa che ha fatto crescere la tristezza e non ha fatto nascere un rapporto pulito un rapporto che invece può nascere adesso da questo cambiamento vedete qua da questo cambiamento perché c'è un cambiamento da qui a qui cioè tutto quello che era semplicemente apparenza adesso con questo cambiamento si trasformerà in sostanza che cosa vi voglio dire io vi voglio dire di fare in modo che gli eventi facciano il loro corso gli eventi devono fare il loro corso e dovete dare la possibilità alle persone di esprimersi di chiarire non andate sempre a credere a tutti i pettegolezzi che vengono detti o tutte le cose che vi vengono raccontate perché questa forma di allontanamento voi l'avete avuta appunto per questa indecisione che c'è stata in questa collaborazione invidiosa nell'ambiente in cui voi frequentavate e perciò che cosa è successo è successo che c'è stato un qui pro quo ecco voi vi siete fatte raggirare da tutto questo parlare scusate vi siete fatte raggirare da tutto quello che si andava a dire e non avete più creduto a quello che la persona invece vi voleva spiegare cosa che invece farà adesso perché appunto c'è in fase questa trasformazione andiamo a vedere come si concluderà questa situazione vediamo un po come si concluderà la situazione per la variante 1 allora vediamo un pochettino allora qui abbiamo la temperanza come prima carta allora sicuramente qui ci sarà una guarigione di tutta la situazione una guarigione che metterà a tacere queste notizie che di fondo sono state messe un pochettino con con cattiveria ecco e qua le carte mi dicono che la conoscenza può andare avanti che oltretutto è un vostro desiderio avere una forma di stabilità con questa persona e mi tasce la carta del festeggiamento è la carta del 10 di spade cioè appunto che tutta questa situazione architettata di invidia di discussioni e di e di parole dette senza pensare andrà a terminare perciò ci sarà appunto la guarigione dovete avere semplicemente un pochettino di pazienza tutte queste voci tutte queste notizie verranno messe a tacere la vostra conoscenza proseguirà ci sarà appunto questo desiderio di costruire qualcosa di stabile finalmente potrete festeggiare diciamo tutto questo andare i vieni di parole che sono state dette e che purtroppo hanno portato ad un malinteso più che altro è stato un malinteso che si è creato e che purtroppo voi avete avete creduto questa è per voi prima variante vi aspetto nei commenti se vi fa piacere mi raccomando seguitemi su tiri su tiktok e su twitch soprattutto tiktok perché metto ogni giorno un messaggio per voi ne ho pubblicato uno poco fa mi sembra sì oppure lo pubblicherò a breve perché ogni giorno metto un qualcosa legato a un messaggio a una notizia a un qualcosa che che vi può riguardare e io vi ringrazio e variante 1 passiamo alla variante 2 eccoci con la variante numero 2 andiamo subito a vedere l'energia che abbiamo per la variante numero 2 vediamo che energia abbiamo per la variante numero 2 per questa notizia per questo evento che non ti aspetti ripulire qui abbiamo bisogno di pulire di ripulire tutto ciò che abbiamo andare al nocciolo della questione al dunque liberarsi da un fardello e spazzare via tutto ciò che non serve appunto dobbiamo ripulirci dobbiamo togliere tutto quello che non serve togliere tutto il superfluo togliere tutto quello che ci dà che ci dà fastidio che diciamo ci rende pesanti e di cui soprattutto non ne abbiamo bisogno vediamo il nostro arcano per la variante 2 qual è oggi vediamo un po che tipo di arcano abbiamo ecco qua da che cosa ci dobbiamo ripulire ci dobbiamo ripulire dalle situazioni negative ci dobbiamo ripulire da questo senso di schiavitù che abbiamo riferito a una persona oppure riferito a una situazione o una storia dobbiamo ripulirci da questa forma di sottomissione che abbiamo riferito a questa situazione o a questa persona ripeto cerchiamo di ripulirci dalle cose negative dalle dai condizionamenti cerchiamo di ripulirci da tutto quello che ci rende schiavi che ci rende sottomessi tutto quello che anche psicologicamente ci rende schiavi cerchiamo di ripulirci e di scacciare via tutto quello che non è diciamo necessario che ci fa stare male vediamo un po cosa ci dicono cosa ci dice il mio mazzo delle coppie vediamo un po per la variante 2 ok qua c'è una qualche situazione che dipende dal potrebbe anche essere una situazione passata perché sia la carta 2 che la carta 3 la ragazza si gira per guardare indietro e anche lei si gira per guardare indietro abbiamo una situazione passata che in questo momento vi fa male vi fa soffrire vi fa soffrire della quale le carte vi dicono che vi dovete liberare perché è una situazione che non vi fa stare bene vi fa stare male vi fa sentire come dire non dico potrebbe anche essere che vi faccia sentire inadeguate o che vi faccia sentire diciamo fuori luogo che vi renda schiave che vi renda sottomesse ed è una situazione di cui le carte vi dicono che bene dovete liberare vediamo di vedere con le sibille allora una per voi ok una per la situazione e uno il consiglio allora qui abbiamo una situazione di voi state pensando in questo momento state pensando state riflettendo come vi potete liberare di questa storia come vi potete liberare di liberare di questa situazione è una situazione che vi dà molto pensiero è appunto come mi descrive la carta del diavolo abbiamo la situazione che fa parte di una situazione di gelosia o siete voi troppo gelose o avete qualcuno che è troppo geloso di voi o potrebbe essere anche una situazione che vi porta a scatenare gelosia una situazione che vi porta anche nell'amicizia esiste esiste la gelosia potrebbe essere anche fra amici fra parenti fra colleghi potrebbe essere in qualsiasi ambito il consiglio questo messaggio cioè prendete il messaggio che vi dà questa variante che vi dà questa stesa per cercare di ripulirvi al meglio di una situazione che sta diventando per voi insostenibile appunto questa situazione di gelosia che si è venuta a creare vi porta non pochi problemi vediamo un po cosa ci dicono le mie le normande adesso non ricordo quante ne ho prese tre ne ho prese tra sia adesso ricordo allora andiamo a vedere cosa ci dicono le normande vediamo un po qui abbiamo la carta della vendetta allora qui abbiamo una situazione che potrebbe riguardare sia il lavoro sia una terza incomoda o terzo incomodo in una coppia perciò ripeto la situazione è una situazione di gelosia di cui ci dobbiamo ripulire una situazione che riguarda il passato non è una cosa che riguarda qualcosa di adesso è una cosa vecchia questa qua e allora però siete arrivati a un punto di saturazione pensa e ripensa e pensa e ripensa adesso non ce la fate più che cosa vi dicono le carte il messaggio delle carte delle mie le normande e di chiudere al di là del senso di vendetta che voi avete e contro questa persona o contro chi vi ha scatenato questa gelosia o contro chi vi ha fatto diventare gelose oppure contro questa persona diciamo che si è intromessa cercate di chiuderla in modo tranquillo in modo definitivo soprattutto e tranquillo e lasciata stare la vendetta la vendetta non è mai una cosa come dire positiva però qui mi viene da dire che c'è un terzo incomodo ci dovrebbe essere una coppia ufficiale un terzo incomodo oppure anche nell'ambito familiare oppure nell'ambito diciamo delle delle amicizie delle amicizie c'è sempre qualcuno che si intrufola e mette diciamo la zizzania vediamo un po cosa ci dicono cosa ci dice la stesa andiamo a prendere un mazzetto come sempre e vediamo un po cosa ci dice la nostra stesa per quanto riguarda la seconda variante allora non vi provo ecco qua lo sapevo io che andava a finire così allora qui abbiamo appunto ansia per un impegno matrimoniale e abbiamo anche un'opportunità una riconciliazione un rifiuto un potere che cosa significa ciò presumo che molte di voi sono la terza incomoda la terza incomoda per quale motivo perché qua mi parla di impegno matrimoniale e di opportunità di riconciliazione ciò che cosa significa significa che magari voi siete la terza persona siete l'amante e che cosa succede vi provoca anzi è il fatto che questa persona vi ha detto per tanto tempo che lasciava la moglie che lasciava tutto per voi ma adesso invece vedete che c'è un'opportunità di riconciliarsi cioè che questa persona riesce a riconciliarsi con la vita matrimoniale come dicevamo prima e giustamente voi avete un rifiuto questo rifiuto vi fa cadere il potere vi fa cadere il potere e che cosa succede qui succede che loro ritrovano un equilibrio tutto ritorna alla normalità c'è reciprocità ed entusiasmo però che cosa succede qui c'è un peso un peso che nasconde una fedeltà che non è stata come dire non è stata una vera e propria fedeltà cioè questa persona per tanti anni vi ha tenuto segrete per tanti anni ha nascosto una fedeltà precaria è stato un peso per voi soprattutto perché potrebbe essere azzardo una cosa potrebbe essere che voi siete nell'ambito di questa coppia che siete amiche di questa coppia che siete amici di questa coppia e perciò li frequentate perciò ci state sempre appresso da qui nasce l'infedeltà ma da qui nasce anche l'essere sempre a contatto con i loro cambiamenti con i loro mutamenti e perciò in questo momento voi state venendo sapere che ci potrebbe essere una riconciliazione e un rifiuto che arriva a voi perciò un equilibrio ritrovato nella coppia ufficiale però un peso da nascondere per quanto riguarda la fedeltà in che senso vi verrà chiesto di nascondere il fatto che avete avuto una tresca con uno dei due sto ipotizzando voi che cosa dovete fare avete il sentimento di vendetta come dicevano quale carte il sentimento di vendetta è dato dal fatto che voi vorreste spiattellare tutto invece quello che vi suggeriscono le carte è di lasciare andare tutto lasciate andare tutto lasciate andare che le cose vadano per il verso giusto cercate di ripulirvi nel senso di togliervi questo peso di dosso con questo con questo con questa persona che non fa al caso vostro perché si capisce che siete stato un passatempo che non siete stata una cosa importante e perciò cercate di voglio dire di mandarlo a quel paese e buonanotte ecco ognuno prende la sua strada e perciò appunto l'evento che le carte mi dicono è appunto questa riconciliazione che voi non vi aspettavate appunto qua la scelta è la scelta sarà per quello che a lui conviene la scelta sarà una scelta di convenienza e di continuità perciò sicuramente sceglierà per il matrimonio sceglierà per il matrimonio la situazione si chiuderà al di là di quello che voi potete studiare al di là di quello che voi potete dire questa situazione andrà a a concludersi e purtroppo ci sarà una una discussione un conflitto un qualche cosa fra voi e questa persona che vi porterà purtroppo ad avere questo sentimento di vendetta però io vi dico di è meglio lasciarlo andare e soprattutto di che siate voi a rifiutarlo ecco non vi fate mettere nella situazione di essere rifiutate ma rifiutatelo prima voi ecco rifiutatelo prima voi forse questo è il messaggio che la carta vi vuole dire ecco rifiutatelo prima voi fate una bella discussioncina prendete la palla in balzo guarda io ci ho pensato bene ci ho riflettuto bene questa situazione non può più andare stati con tua moglie con la tua fidanzata e a me lasciami in pace questo è quello che vi consigliano le mie carte poi ognuno è libero di fare quello che vuole questo è semplicemente un consiglio perciò seconda variante se lo volete accettare o se no voi siete liberi di fare e di decidere come volete se vi fa piacere vi aspetto nei commenti vi aspetto anche su tiktok e su twitch per il messaggio del giorno e io passo alla variante 2 eccoci qua variante numero 3 avevo detto di passare alla variante 2 no passiamo alla variante 3 allora variante 3 vediamo subito che messaggi energetici abbiamo per la variante 3 vediamo un po' cosa ci dicono per questo evento che non ti aspetti allora respirare qui abbiamo bisogno di respirare respirare abbiamo bisogno di pazienza dobbiamo aspettare andare piano dobbiamo meditare e avere fiducia e aspettare che cosa dobbiamo aspettare andiamo a vedere il arcano maggiore legato alla variante numero 3 dobbiamo aspettare dobbiamo pazientare respirare e aspettare che gli eventi si compiano e abbiamo il matto il matto è una fonte di energia dobbiamo aspettare che gli eventi prendano una piega particolare in che senso dobbiamo cercare di avere la pazienza di aspettare che le energie si incanalino in un certo modo in una certa situazione questa è un'energia allo stato puro senza una precisa di direzione va oltre gli schemi rappresenta gli spostamenti e il viaggiare chiunque sia legato a questa variante deve aspettare prima di muoversi e avete una mente talmente libera che va vista anche con un pizzico di follia diciamo che siete un pochettino stravaganti e anche un pochino diciamo così un po particolari però qua mi parla di movimento siete delle persone che dovete stare sempre in movimento però le carte vi suggeriscono di aspettare prima di muovervi aspettare prima di fare un qualsiasi passo verso una direzione di cui avete necessità di trovarne il fulcro o la fine e qui abbiamo diverse persone qua qua sicuramente c'è qualcuno che prenderà il largo perché come vi fanno vedere queste carte qui abbiamo tantissime persone coinvolte una situazione di passionalità fra una di queste persone e qualcuno che va via questo che va via se siete voi che la persona che vuole andare via le carte vi suggeriscono di aspettare o invece se siete voi che aspettate che qualcuno vada via questa diciamo tenderà a muoversi a breve con un evento ecladante che vi che vi diciamo che vi dirà appunto la sua decisione di andare via da questa situazione che già vedo che è un tantino un tantino complicata avete già una situazione abbastanza complicata da gestire per cui quando ci sono più persone di mezzo già non quadrano due teste figuriamoci se ne quadrano più di una però qui le carte vi dicono che diciamo se siete voi che dovete muovervi di aspettare un attimo prima di andare andare via allora per voi qui c'è molta forza in voi voi vi state proprio caricando a pallettoni appunto per prendere questa decisione per aspettare il momento opportuno per scappare per andare via vedete qui per andare via e poi qui abbiamo la situazione attuale e la consolazione come consiglio che cosa significa questo questa significa che vecchia significa che è una situazione non di recente svolgimento è una situazione che vi portate già da parecchio tempo e tanto tempo magari che sopportate tanto tempo magari che non riuscite più a tenere testa una situazione un pochettino complicata avete bisogno di respirare di meditare prima di passare all'azione ma vedo che qui queste due carte mi portano a pensare che siete proprio carichi a pallettoni non ce la fate più a sostenere una determinata situazione è quello che vi viene in mente più facile la cosa più facile che vi viene in mente da fare da pensare è appunto andar via scappare diciamo che potrebbe essere una soluzione ma io prima metterei in chiaro tutto e con tutti prima di andar via cioè lasciarli belli chiari nel senso io me ne vado però non mi dovete più chiamare ecco abbiamo infatti le discussioni la lettera è una donna allora questa donna potreste essere voi come potrebbe essere un'altra persona che cosa mi viene da dire mi viene da dire che per molti di voi sarà questa donna che vi comunicherà qualche cosa che vi farà scoppiare assolutissimamente oppure potrebbe anche essere che appunto la questione di questa donna che vi fa scoppiare diciamo che c'è sempre un innesco alla situazione che state vivendo un innesco che vi porta a non a non poterne più e a appunto decidere di andare via mi verrebbe da dire appunto che in mezzo a queste sì a questi personaggi c'è un qualcuno che diciamo non si è comportato nel migliore dei modi questo potrebbe essere appunto una scoperta che vi viene fatta e sarà questa donna a dirvi che cosa è successo e appunto a darvi la spinta per andar via e per scatenare un una piccola discussione e soprattutto a scatenare una una lite una controversia con qualcuno che c'è in questo ambito o qualcuno che vi è accanto in in questo momento ok prendiamo qua il nostro mazzo di riferimento e vediamo un po che cosa ci dicono i miei oracoli allora andare oltre questa è la vostra prerogativa andare oltre dare oltre la sofferenza superare appunto questa rivale che si viene a creare per riuscire ad avere un po di benessere perché voi con tutti questi dubbi con tutti questi ostacoli non riuscite a trovare dentro di voi e intorno a voi una situazione di benessere perciò che cosa succede succede che siete stanchi siete stanchi volete andare oltre la sofferenza superare la questione di questa rivale che sia una due tre quattro centomila non vi interessa e soprattutto superare questi dubbi e questi ostacoli per trovare il benessere che vi sta proprio stancando stancando vi sta stancando il perché vi sta stancando ve lo dico subito perché è una situazione come dicevo prima vecchia una situazione vecchia che vi portate da tanto tempo perciò avete bisogno di libertà siete stanchi di bugie stanchi di queste separazioni di questi messaggi che mettono in pericolo la coppia basta il vostro la vostra caratteristica la vostra prerogativa è appunto trovare il coraggio tutto il coraggio possibile immaginabili per dire basta e per andare via ecco qua la carta dell'eremita è volata via questo che cosa significa significa che voi siete state tanto tempo in silenzio siete state tanto tempo a meditare avete riflettuto su quello che vi è stato fatto vedete il serpente state meditando sul male che vi è stato fatto e avete deciso di andare oltre avete deciso di finalmente cercare una via d'uscita nel passato cercare la chiave per un futuro migliore la trasformazione la trasformazione di questa sorta di prigionia in cui vi trovate in questo momento che però vivete con i piedi sciolti con i piedi libere perciò anche se avete le mani legate anche se avete gli occhi chiusi però la trasformazione che state attuando in questo in questo periodo vi porterà a riuscire ad alzarvi e ad andare via ad andare via e trovare finalmente un po di beneficio a livello sia economico materiale ma soprattutto mentale perché voi ormai siete una donna logica non andate più a sentimento non andate più a sentimento siete determinata nel vostro cammino nel senso di basta chiudere con questa storia definitivamente non ne volete più sapere che facciano quello che vogliono che stiano con chi vogliono ma l'importante è che a voi non vi disturbino più la trasformazione che è stata attuata nella vostra vita è stata attuata attraverso la sofferenza attraverso la il capire determinati meccanismi rendersi conto di determinate cose e talmente si è diventata logica e fredda da riuscire a capire che la situazione non è più gestibile non è più salvabile e perciò è arrivato il momento di chiudere e tagliare bene terza variante come sempre vi aspetto nei commenti se vi fa piacere se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere gli altri gli altri video vi aspetto su twitch e tiktok dove ogni giorno pubblico un messaggio il messaggio del giorno appunto per chi volesse un consulto personale il mio indirizzo di posto lo trovo giù nelle info io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video Grazie